Bene, salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Mr. Chietico87, alias Francesco Barni. Facciamo subito un'altra recensione perché abbiamo voglia di darvi contenuti, anche se si tratta di parlare, però tra di voi ci teniamo a sapere cosa ne pensate e probabilmente ci tenete anche a sapere cosa ne penso io. Video recensione della Mumia, vi prometto che questa è l'ultima, l'ultima video recensione cinematografica che faremo prima di lui viene da partenza della Grecia perché poi ci concentreremo su fumetti e manga. Questo ve lo prometto. Lo dico subito perché mi sono dimenticato in un altro video di dirlo. Qui dietro non vedete più i poster, non perché siano stati bruciati o persi, ma semplicemente perché dopo il pergi nei comics, di cui ringrazio ancora veramente tutti la partecipazione, 7-800 persone, magari del tempo un po' incerto, sto ancora un attimino mettendo a posto e sto rivedendo un attimo quella che è la disposizione un po' a tutta dei manga, eccetera, e dei fumetti, dei post, dei quant'altro, perché non ci sta veramente più niente. È aumentata nel frattempo anche la, diciamo così, la quantità di statuette Marvel, quindi action figures, stiamo andando avanti col Millennium Falcon, siamo arrivati all'uscita quasi 70, quindi guardate, è pazzesco, pazzesco come serie, dovrebbe arrivare al numero 100, boh, vediamo, vedremo. La mummia. Allora, partiamo col dire che il 2017, ma secondo me anche il 2018, è l'anno in cui i Monsters, cioè non la squadra di Space Jam, dei mostriciattoli lì che cercano di battere Michael Jordan e gli Unitoons, ma i Monsters, quindi i mostri, il filone mostroifico così, il filone mostruoso, monstruoso, anzi, detto all'americana, così alla British, anche, sta tornando, sta tornando in voga, perché la società d'oggi, che è abituata ad avere sempre a che fare con botte secche riguardanti la realtà, il mondo reale sempre ci fa sbattere troppo, siamo bombardati da notizie, dal mondo masmediatico che continua in pretelito a farci, presente che la realtà è piena di problemi, difficoltà, eccetera, la gente vuole scoprire un mondo dove ci siano dei problemi peggiori dei nostri per cercare, diciamo, delle sicurezze nel fatto che comunque il nostro mondo ha ancora qualcosa di buono da offrire e speriamo è meno male. La mummia. Non è altro che il remake, o comunque una nuova versione, diciamo così, un reboot, un remake, del filone della mummia, ultimo che abbiamo visto, degli anni 2000, insomma, con la trilogia della mummia, ricordate, la mummia, la mummia al ritorno e la mummia, la tomba dell'imperatore fantasma, con Rachel Weisz, i primi due, nel terzo invece rimane solo il... l'attore maschia di cui mi sfugge il nome, ricordatemelo voi, e invece lei non c'è, però una trilogia che comunque è piaciuta al pubblico, soprattutto i primi due episodi, dobbiamo dire, con l'avvento anche del famoso orio scorpione, ma poi nel terzo è andato un po' a perdere, però una trilogia carina, abbiamo il Blu-ray che l'ho cercato prima ma non l'ho trovato, deve essere dentro nei meandri, ma comunque, tanto per dire, volevo darvi un rimando. La mummia, the mummy, anche qui si spacca col passato, si cerca qualcosa di nuovo, la mummia per la prima volta è una donna, una donna, e non è una donna qualsiasi, è la figlia del faraone, la figlia del faraone, la primogenita del faraone, e anche qui direte, ecco il femminismo e vai, le donne contente, spacchiamo il culo, i maschi non servono a niente, attenzione, perché il 2017 sembra essere un anno che finalmente rompe i canoni, questo femminismo esagerato ha un po' rotto le scatole, secondo me anche alle donne che non vogliono ammetterlo, ma così è bello avere una donna che spacca i culi, una donna grintosa, indipendente, come è giusto che sia, però è anche bello vedere dell'equilibrio, è anche bello vedere ogni tanto che una donna abbia bisogno di un uomo, come ogni tanto è bello vedere che un uomo abbia bisogno di una donna, cioè i due esseri umani che si completano hanno bisogno l'uno dell'altro per varie motivazioni. Questa mummia, questa donna, è la figlia primogenita del faraone, ma non solo eredita o dovrà ereditare il regno d'Egitto, se non che il faraone con la moglie, o comunque non viene specificato lì moglie e concubine, perché poi sapete quanti sono le moglie, quante sono le concubine egiziane di quei tempi, ha un figlio, ha un figlio maschio, e quindi come ben sapete, denuncia sociale di quei tempi, il figlio maschio egiziano aveva diritto di prelazione su quello che poi era l'elemento femminile, no? E quindi viene a scoprire con sua somma, diciamo, disperazione, che lei non erediterà il trono, il trono del faraone d'Egitto, perché? Perché lo erediterà il figlio, perché è maschio, e quindi c'è la probabilità molto forte che se poi il figlio avesse un erede maschio, continuerebbe, diciamo, la tradizione maschile, e lei resterebbe fuori dai giochi per quanto riguarda il dominio assoluto dell'Egitto. Quindi una donna piena di cupidigia, piena di brama di potere, che non accetta questa cosa, e attraverso dei riti oscuri, dei riti esoterici, magici, richiamando Anubis, il dio della morte, no? A sé, con, diciamo, il suo amante, diciamo così, vuole far incarnare il dio Anubis della morte nel suo amante per poi dominare l'Egitto. Ovviamente, come in ogni ottima tradizione mummifica, un mummifica dice, no, mummifica va bene, un cazzo di parole, tiro fuori ogni tanto, tradizione mummifica viene affrontata dalle guardie del faraone e viene, non uccisa, viene mummificata viva, quindi una specie di, diciamo così, pena dell'Hondai, andate a vedervela, della prima mummia, ma non proprio così tragica, però mummificata viva e, come pena, ancora più insomma, viene trasportata il più lontano possibile dall'Egitto, va bene? Dall'Egitto, dove viene trasportata in Iraq, non si sa come, però in Iraq, e lì rimane sigillata. Ovviamente il protagonista, che è Tom Cruise, con il contraltare femminile, che sarà non protagonista ma quasi, e un altro amico originario, diciamo, del posto, almeno cromaticamente parlando, loro, attraverso delle missioni, dell'esercito, di esplorazione, eccetera, trovano il sarcofago e liberano la mummia. Questa donna, innanzitutto, stilisticamente è molto diversa alle mummie che siamo abituati a vedere. La mummia prende l'energia, succhia l'energia vitale delle persone per tornare umana, dopodiché l'uomo a cui viene risucchiata energia muore. Invece qua è più una sottomissione, e in questo c'è ancora una denuncia sociale, c'è ancora un femminismo, no, che divampa. La donna superiore, quindi, quasi tutte le persone a cui lei succia energia, sono uomini. Ruba l'energia, proprio come una sexy limonata, diciamo, proprio a spennellata, no? Così. E succhia l'energia, facendo diventare loro schiavi, proprio senza cervello, questi uomini. Quindi, capito, questa idea della donna che retisce l'uomo, impone le mani, impone la lingua, una fisicità anche della donna, forse. Però, un film, un'oretta e quaranta, guardate, niente di particolare, sotto le due ore, un film piacevole, un film tipico della mummia, dove però c'è anche un ritorno dell'uomo. Le persone si salvano a vicenda, poi l'uomo cercherà di compiere un sacrificio massimo. Per la prima volta abbiamo una donna che è lei la cattiva, c'è una mummia che rappresenta la cattiveria. Il male assoluto. Un cameo stupendo, tra l'altro, di Russell Crowe, poi, nei panni del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. In questo vi dico il trash per i mostri, per i personaggi un po' così di fantasia, mostri che vengono inseriti l'uno dall'altro. Vi dico, e concludo, dicendo che all'inizio sarà l'inizio di una nuova trilogia, per cui possiamo aspettarci sia delle cose interessanti che delle cagate paurose. Ovviamente, neanche a dirlo, Il bene trionferà, boh, 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 ve lo lascio scoprire a voi. La mummia forse è un film che può essere visto al cinema, rispetto a Wonder Woman, perché Wonder Woman, ribadisco, la CGI è un po' così. Qua, secondo me, la CGI è un po' più carina, anche se ci sono alcune scene un po' così, diciamo. Però una nuova mummia, una mummia moderna, però non una mummia così femminista, una mummia interessante, dove l'uomo riesce ancora per camminarsi, una mummia che storicamente dà degli elementi in più per scoprire questo fascino mostroifico che la mummia ha sempre avuto su di noi. Un caldo saluto dal vostro Francesco Barni agli Asmissaritico 87. Alla prossima.